Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora qui in mia compagnia. Oggi vi presenterò un allenamento un po' particolare perché sarà suddiviso in due giornate, quindi io vi mostrerò un tipo di allenamento che andrà a lavorare sulla definizione, quindi vi permetterà di scolpire il vostro corpo e naturalmente anche di bruciare grassi, quindi il primo video sarà inerente al primo giorno di allenamento, poi sempre all'interno della pagina web di My Personal Trainer troverete anche il secondo giorno di questo allenamento, io l'ho chiamato magri e definiti, quindi voi dovete cercare magri e definiti giorno 1 e magri e definiti giorno 2. Come andare a lavorare quindi con i due giorni? Si lavorerà in questo modo, si andrà a fare un giorno l'allenamento 1, un giorno l'allenamento 2, il terzo giorno si sarà il riposo e poi si eseguirà ancora il quarto giorno l'allenamento 1 e il quinto giorno l'allenamento 2. Questo tipo di allenamento, suddiviso anche in questo modo come vi ho appena spiegato, vi consentirà di ottenere il massimo dei risultati. Io vi mostrerò solo un round, però voi naturalmente per completare il vostro giorno d'allenamento dovrete andare a svolgere 4 round di questo circuito, sia per quanto riguarda il primo giorno, che quello che vi sto mostrando, che quello che troverete poi nel workout del secondo giorno. Quindi per questo primo allenamento occorrono questi seguenti attrezzi. Allora lo step, che è sempre questo ripiano, il nostro catbell, io sto usando un catbell da 4 kg, però voi utilizzate pure quello che ritenete più opportuno e un manubrio da 2 kg. Se per caso a casa non avete il catbell, potete eseguire lo stesso esercizio che io vi mostrerò con il catbell con l'utilizzo del manubrio e poi utilizzeremo il tappetino. Io andrò a impostare sempre il mio timer su 30 secondi di lavoro e 10 secondi di pausa. Tra un round e l'altro riposate sempre dai 40 e i 60 secondi. Mi raccomando cercate di lavorare con intensità e di svolgere gli esercizi nel modo più corretto possibile. Se per caso avete qualche movimento che non riuscite a capirlo, perché io li faccio vedere molto veloci, trovate sempre all'interno della pagina di My Personal Trainer i vari tutorial degli esercizi singoli. Siete pronti per allenarvi in mia compagnia? Andiamo pure! e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.